Buongiorno da Sicilia 24, ben ritrovati alla nostra consueta rassegna stampa mattutina, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola questo martedì 7 giugno, vediamo cosa ci propongono i titoli più importanti e come sempre gli argomenti principali. Cominciamo subito, partiamo dal quotidiano La Sicilia, vediamo cosa ci propone in prima pagina, si parla di politica, vedete con le parole dell'ex premier Giuseppe Conte in visita in Sicilia, le primarie non ci spaventano, ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle, giù le mani dal reddito in Sicilia, a noi ruolo guida del campo progressista, queste le parole di Conte con il centro-sinistra verso il voto, verso le amministrative Conte in Sicilia per appoggiare Franco Miceli, candidato sindaco a Palermo. Si parla poi di lavori, lavori sulle autostrade, colpi di coda il titolo, andiamo nel dettaglio, ancora un weekend infernale per migliaia di automobilisti rimasti imbottigliate per ore sull'autostrada Siracusa Gela, i lavori in corso tra Cassibile, Avola e Noto rischiano di penalizzare quest'estate il turismo del sud-est, dunque questo continua a essere chiaramente un problema. Si parla anche della guerra in Ucraina, Mosca attacca ancora la stampa italiana, ma è polemica sugli ospiti, Filo, Putiniani, nuove accuse e bufera su Giletti, e non è l'arena il programma, non è l'arena. Andiamo, vediamo gli altri argomenti in prima pagina, maturità, dilemma, mascherina, banchi e rispetto per gli altri. Oggi vedremo comunque se in effetti alla fine si opterà per la mascherina anche durante gli esami. Intanto, guardate, si prepara uno sciopero dei low cost, low cost chiaramente si parla di compagnie aeree, rivolte equipaggi della Ryanair, ci negano anche acqua e pasti, e quindi quattro ore di sciopero domani per i voli di Ryanair, EasyJet e Volotea. Andiamo in taglio alto, andiamo a fare il consueto giro, il punto delle città, con il quotidiano La Sicilia, partendo da Catania, naufragio militare salva un adulto e tre bambini, ad Adrano invece un impatto mortale per un motociclista, a riposto festeggia la pensione e poi l'Inps lo congela, mentre a Taormina il parco Trevelyan il restauro non è un tabù. Questi dunque i titoli questa mattina sul quotidiano La Sicilia, ma proseguiamo perché abbiamo tante prime pagine da vedere insieme, vediamo ad esempio cosa ci propone il giornale di Sicilia, chiaramente si parla tanto di politica, delle visite, delle tappe in Sicilia di Conte e Salvini, ma vediamo insieme il titolo, la spinta di Conte e Salvini, i leader di Movimento 5 Stelle e Lega Palermo per sostenere Miceli e Lagalla, l'ex premier, il reddito di cittadinanza non si tocca, Matteo invece dice servono maggiori aiuti alle famiglie e questo è dunque il titolo in primo piano che riguarda appunto la politica, politica verso le comunali e vedete meno simboli e il trionfo delle liste civiche a Palermo, poi si parla anche, si dà ampio spazio al calcio e al conto alla rovescia verso il ritorno della finale playoff contro il Padova, una marea rosa al Barbera per l'ultimo passo verso la B, c'è grande attesa in città, chiaramente grande entusiasmo, il Palermo che lo ricordiamo riparte dall'1-0 ottenuto all'andata sul campo del Padova. Gasolio troppo caro, sale la protesta delle marinerie isolane e poi si parla di cronaca con il tesoriere dei nuovi clan e una raffica di condanne, sono le condanne dell'operazione delirio, ne abbiamo parlato ieri nel corso delle nostre edizioni di Spazio Notizia, così come abbiamo parlato di questa notizia che riguarda Palermo, Movida violenta, due giovani pestati dalle baby gang, questo è successo proprio in città. Andiamo in taglio alto, si parla di guerra, Mosca alza il tiro prima intesa sul grano ucraino e poi boom di turisti nei siti UNESCO, ma Palermo e le isole eolie rischiano per le troppe presenze. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, lasciamo il giornale di Sicilia, adesso andiamo sull'edizione palermitana del quotidiano La Repubblica, anche qui vedete si parla tantissimo della visita di Conte e Salvini e sfida tra i due sul reddito di cittadinanza. Il capo del movimento nei quartieri più popolari al fianco di Franco Miceli difende il sussidio a beneficiarne un bacino di 100.000 potenziali elettori che potrebbe risultare decisivo alle urne. E poi nel dettaglio le dichiarazioni proprio dei due leader, a cominciare da quello del Movimento 5 Stelle, non vi lasceremo per strada lotta alla mafia senza ambiguità dichiarato, mentre Salvini dice i soldi del bonus devono essere girati alle imprese che assumono. E poi si parla ancora dell'attacco hacker al sistema informatico del Comune di Palermo, hacker al Comune, danni alla ZTL e al servizio tributi. Rimanendo di spalla poi un appunto sulla partita in arrivo ormai del Palermo, si gioca domenica alla Barbera, una città col fiato sospeso a 90 minuti dalla B. Come detto c'è davvero un grandissimo entusiasmo, tutti aspettano con trepidazione questa importante partita, la più importante partita per il Palermo negli ultimissimi anni. E poi la Covid, 50 mila reinfettati, tutta colpa di Omicron, questi titoli principali sull'edizione palermitana della Quotidiano La Repubblica. Vediamo adesso invece l'edizione nazionale, sempre del Quotidiano La Repubblica, si parla di salario minimo, ma andiamo nel dettaglio, vediamolo insieme, salario minimo per tutti, andiamo adesso nel dettaglio, la direttiva europea fissa i criteri per il calcolo su retribuzioni eque legate all'inflazione, ma non sarà vincolante. Nel nostro Paese un lavoratore su tre, sotto la soglia dei 9 euro, quasi il 30% del totale, e cresce lo spread italiano. E Bruxelles propone la scala mobile, insiste sul reddito di cittadinanza. E poi si parla della guerra in Ucraina, nel dettaglio per quanto riguarda la questione grano, pronto un corridoio per il grano di Odessa, intesa tra Turchia e Mosca, scettici gli Stati Uniti, cereali rubati verso l'Africa. Andiamo veloci, abbiamo tante prime pagine da vedere, vediamo ad esempio cosa ci propone il Corriere della Sera, in primo piano si parla di guerra in Ucraina, o meglio, dei rapporti in questo caso tra Italia e Russia, ed è tensione fra Roma e Mosca, ha convocato l'ambasciatore Razov, Lavrov dice colpiremo i centri del potere a Kiev. La mossa di Draghi per fermare le accuse contro l'Italia, il Copasir, ora le indagini sui social filorussi. Proseguiamo, lasciamo il Corriere della Sera, adesso andiamo a vedere invece il quotidiano, la stampa, qui si parla soprattutto della questione grano, Russia-Turchia, il patto del grano, spazio aereo europeo chiuso a Lavrov, che dice inaccettabile, reagiremo, mentre Zelensky dice sono più forti, ma resistiamo. E a proposito di grano, Mosca concorda con Kiev e Ankara, le modalità per fare uscire in sicurezza le navi dal porto di Odessa. Questo dunque il titolo principale in questo caso sul quotidiano torinese, la stampa. Vediamo adesso invece il giornale che cambia decisamente argomento. I migranti molestano, la sinistra li difende, si torna sulle violenze di peschiera, dem femministe incolpano la destra e bloccano la legge sulle baby gang, mentre il ministro Stefanini dice è un'emergenza nazionale questa, la situazione in questo caso sulla questione migranti, diciamo così, e poi la guerra in Ucraina, missili a Kiev, sarà escalation, grano intesa Russia-Turchia, benzina, ancora le stelle, questa dell'escalation, la minaccia che arriva dal Cremlino. Dal quotidiano il giornale passiamo alla nazione che invece mette in primo piano un argomento certamente importante, addio alle automobili diesel e a benzina, dunque si dovrebbe, si potrebbe passare definitivamente totalmente all'elettrico. Vediamo da quando. Rivoluzione in Europa, dal 2035 non potranno più essere vendute, ma gli industriali resistono e i politici, anche italiani, litigano. Viaggio nel mondo dell'elettrico, dai tempi di ricarica allo smaltimento delle batterie, ecco tutti i problemi che dovremo affrontare. Vedremo se in effetti sarà così, se si passerà all'obbligo dell'elettrico e accantonando quindi le auto a benzina e diesel. Siamo sul tempo, come di consueto, ampio spazio alla politica, in questo caso alle elezioni amministrative ormai imminenti, alle urne si andrà domenica, amministrative rischia tutto. Domenica le urne potrebbero rivelarsi un terremoto per il governo, ma non solo. Resa dei conti interna nel Movimento 5 Stelle, i timori di crollo del PD e il dualismo, Salvini-Meloni. Intanto i partitini continuano a fare la corte a Draghi per salvare qualche poltrona. Questo è il titolo per quanto riguarda appunto le questioni politiche sul quotidiano, il tempo. Vediamo invece il Fatto Quotidiano. Intanto parla di guerra, grano, ok, russo-turco, Sant'Egidio da Macron, Lavrov dice più armi, più guerra, dunque più armerete, ecco, il senso è questo, l'Ucraina, e più ci sarà un'escalation. Mentre in taglio centrale, questo è il titolo, il Copasir, non sa nulla dei pizzini del Copasir. smentito il Corriere, Urso dice, i putiniani, li ho letti sui giornali, opera di 007, Conte indegno. Questo l'argomento principale trattato stamane dal Fatto Quotidiano. Ed ora invece chiudiamo per quanto riguarda i quotidiani non sportivi, ecco, diciamo così, con Libero, che si sofferma sul caso Giletti, siamo liberi di non essere comunisti. Con gli agenti di Putin non si applica la par condicio, chi li ascolta perde tempo. E poi si parla anche di un'altra questione importante che è relativa alla mascherina nelle urne, in vista, come detto, delle elezioni, mettono la mascherina al voto. Alle urne servirà la chirurgica, il governo teme l'affluenza al referendum, obbligatoria nelle cabine elettorali, ma non lo è invece ai concerti. Adesso andiamo a vedere i quotidiani sportivi, partendo come sempre dalla Gazzetta dello Sport, che in primo piano mette il Milan e in questo caso il futuro di Zlatan Ibrahimovic, che sarà rosso-nero con Ibra, che dice, vedete, firmo per amore, rinnoverà a una cifra simbolica con premi per i risultati. Dunque, senza fine, il legame con il Milan continuerà. E poi il mercato della Juve con Di Maria più Costic, Juve al Max, questi i due grandi obiettivi per quanto riguarda la squadra bianconera, mentre si parla anche di Nazionale Azzurra, Giovedù, Mancini, Cellungheria, Gnotto e titolare, Scamacca, è stato promosso. Lasciamo la Gazzetta dello Sport e andiamo invece su Tutto Sport, dove si parla del mercato della Juve. Adesso vi mostriamo anche il dettaglio in questo caso. Max la vuole così, da Coulibaly a Pogba, da Molina a Raspadori nei piani della Juve, un rinforzo per ogni reparto. Intanto su Di Maria c'è il Barcellona in agguato. Dunque, Max Allegri sogna una grande Juve. E poi si parla della Nazionale Azzurra, provaci ancora Willy, Willy chiaramente è Gnonto che in Nations League sarà titolare a Cesena dopo l'esordio con assist contro la Germania. Ora lo cerca anche il Toro, il neo-juventino Gatti verso il debutto. Dunque, mister Mancini punta tantissimo sui giovani. Si parla anche di Milan, il Milan stile Liverpool, il potente uomo d'affari che ha portato il calcio negli Stati Uniti. Redbird ha professionisti con un'esperienza enorme nello sport. I rossoneri possono seguire un percorso simile a quello del club inglese. E chiudiamo con il Corriere dello sport. Si parla in questo caso di Inter e del futuro del tecnico Simone Inzaghi. Inzaghi ha la firma. Inter da Cagliari ecco Bellanova. Lukaku tiene duro incontro con Marotta per quanto riguarda appunto il futuro di Inzaghi. A giorni contratto prolungato fino al 2024. quindi l'Inter è pronta a proseguire il suo percorso con l'attuale tecnico. Mercato Juve Pogba a luglio per Di Maria entra in Teckel in Barcellona dunque aumenta la concorrenza per il campione argentino e poi la nazionale azzurra Mancini con Gnonto titolare Willy ha bisogno di crescere e dunque oggi sarà titolare dopo l'ottimo esordio in nazionale. Noi possiamo chiudere con le notizie sportive questa rassegna stampa odierna abbiamo visto tante prime pagine tanti titoli e tanti argomenti importanti adesso ci salutiamo ma ci ritroviamo più tardi con le nostre edizioni di Sicilia 24 quindi vi aspettiamo sempre con le nostre edizioni di Spazio Notizia vi aspettiamo ovviamente su Sicilia 24 a dom